Lavoro, ambiente, sanità, diritti, infrastrutture, fondi europei sono alcuni dei settori di intervento su cui la Giunta regionale toscana sta lavorando dal 2015, anno di inizio del mandato. Al giro di boa di metà della legislatura, i primi due anni e mezzo di lavoro sono stati riassunti in una speciale sezione web del sito istituzionale della Regione, intitolata A metà dell'opera e in continuo aggiornamento. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, ha voluto focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che ritiene prioritari. Dal 2011 la Regione toscana sta investendo in interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico circa 100 milioni di euro e nel 2017 è stato approvato il documento operativo per la difesa del suolo che raccoglie gli interventi attuati dagli enti locali, quelli in attesa di finanziamento dallo Stato e la manutenzione ordinaria dei consorzi di bonifica. In questo settore, a chi gli chiede di che cosa va più orgoglioso, il presidente Rossi così ha risposto. Del riordino di questa materia e del fatto che teniamo il passo a investire 100 milioni all'anno e che questo è il modo serio per cambiare le cose sull'assetto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio e poi consorsi che pure con qualche difficoltà però cominciano a lavorare, sono presenti sul territorio, riescano a fare una manutenzione diversa. La regione toscana ha puntato molto sull'ammodernamento delle infrastrutture, investendo soprattutto su ferrovie e porti e sul rilancio del trasporto pubblico locale. Grazie all'accordo quadro seglato con le ferrovie, ha preso il via la realizzazione del secondo binario fra Pistoia e Lucca. Il raddoppio dell'intera tratta richiederà un investimento di 450 milioni di euro, di cui 235 finanziati dalla regione toscana. La conclusione del primo lotto è prevista per il 2019, mentre è in corso la progettazione definitiva del tratto Montecatini-Terme-Lucca. È un orgoglio per noi che con i nostri soldi della regione siano partiti i lavori per il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, continueranno poi successivamente con i finanziamenti europei e poi i porti, la Darsene Europa, a Livorno, su cui stiamo lavorando, il rinnovo del porto di Piombino, ovviamente, ma anche Waterfront di Carrara. In particolare per il porto di Livorno, principale scalo marittimo della Toscana, sono in programma due opere fondamentali, i raccordi ferroviari con la ferrovia tirrenica e con l'interporto di Guasticce e la costruzione della nuova piattaforma Europa, con un significativo ampliamento dell'area portuale verso il mare. A fine 2016 è stato inaugurato il raccordo ferroviario tra la Darsene e Calambrone, mentre quest'anno è stato predisposto il progetto definitivo del raccordo tra porto e interporto finanziato con risorse regionali. Per la realizzazione della prima parte dell'intervento, il Terminal Container, è previsto un investimento di oltre 660 milioni, a cui la Regione ha destinato 12 milioni e mezzo di euro all'anno per 20 anni. Inizio dei lavori nel 2018, conclusione entro il 2022. Maggiore puntualità, comfort e sicurezza, questi i risultati che la Regione sta progressivamente raggiungendo per gli oltre 200 mila pendolari che ogni giorno utilizzano il treno in Toscana. Dal 2015 sono entrati in circolazione 35 nuovi convogli e grazie alle innovazioni tecnologiche e a una diversa programmazione, nel 2016 la puntualità media è salita al 95%. La Toscana sta lavorando con Trenitalia per un nuovo contratto di servizio, valido fino al 2032, che porti gli investimenti a 700 milioni di euro. Da quando montavamo sui treni per protesta con i pendolari, la situazione è profondamente cambiata e cambierà ancora, c'è più puntualità, il 95% dei treni ormai è puntuale, eravamo all'89%, questo si fa sentire percepibile dai pendolari. E poi con il nuovo contratto con Trenitalia noi avremo il rinnovo di tutto il parco macchine nei prossimi anni e quindi viaggiare puntuali e viaggiare più comodi. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Toscana ha sottoscritto con la società One, formata dai 14 gestori attuali del servizio, un accordo ponte valido per due anni che, in attesa che si risolvano i contenziosi legali sull'esito della gara per il gestore unico, consentirà di dare il via ad una serie di investimenti e di innovazioni previste dallo stesso bando di gara, come l'acquisto di 229 nuovi bus e l'omogeneizzazione delle tariffe. Potevamo già essere partiti ma i contenziosi legali ci hanno frenato, speriamo di chiuderli ora, però è la prima Regione che fa la rivoluzione del trasporto su gomma attraverso la gara. Il progetto Lavoro Sicuro è nato nel 2013 dopo un incendio scoppiato in una fabbrica del macrolotto di Prato in cui morirono sette operai cinesi che in quel capannone lavoravano e abitavano. Attraverso un piano triennale di controlli in due anni sono state passate al setaccio più di 8.200 aziende in tutta l'area metropolitana, quasi 5.000 solo a Prato. Il risultato è che all'inizio solo una ditta su sette era in regola, oggi lo è una su due e l'84% delle aziende ha pagato le sanzioni combinate in tutto 10 milioni di euro e ha eseguito i lavori per la messa in sicurezza. Questo progetto Sicurezza del Lavoro a Prato si è dimostrato che è possibile che lo Stato sia presente anche laddove pare impossibile. Se si organizza ci siamo riusciti, ringrazio la Procura di Prato, il Comune, i comuni della zona e soprattutto i ragazzi che hanno fatto questo progetto che ha cambiato le condizioni di sicurezza di lavoro per migliaia e migliaia di persone. La questione dell'ambiente è centrale nell'azione del Governo regionale, fra gli obiettivi l'azzeramento della popolazione esposta all'inquinamento delle polveri sottili e la diminuzione delle emissioni di carbonio. In quest'ultimo caso la Regione ha messo a bando contributi alle imprese per l'efficientamento energetico di fabbriche e capannoni. Altri finanziamenti hanno invece riguardato gli edifici di proprietà delle asle e delle aziende ospedaliere. Ad oggi sono stati così risparmiati 5.000 TEP di energia e 13.000 tonnellate di anidride carbonica. L'energia della Toscana è l'energia geotermica, il che non significa fare nuove centrali, non significa prevalentemente questo, significa studiare la possibilità di un utilizzo e di un potenziamento dell'energia geotermica anche per fini di riscaldamento e su questo stiamo studiando, ma insomma entro sei mesi vi diremo meglio con precisione cosa pensiamo che si possa fare. Poi con il piano qualità dell'aria abbiamo individuato le aree della Toscana dove c'è un'emissione di polveri sottili superiore alla norma, bisogna stare anche attenti a quello che i tecnici chiamano gli abbruciamenti della legna, le biomasse perché questi producono polvere più di quanto si pensi, naturalmente questo è un lavoro di programmazione che prepariamo per chi verrà dopo di noi. Grazie a tutti.